Eccoci qua, buonasera, sono sempre in mezzo ai pacchi, i pacchi, i dieci pacchi della settimana. Cos'è un pacco? La definizione di pacco, per favore, regia. Il pacco è una fregatura, una sola, un imbroglio, fare, tirare il pacco a qualcuno, si dice, no, non rispettare un impegno, un appuntamento. Io qua dentro cosa farò? Compilerò un elenco di dieci persone, questi dieci pacchi, questi dieci scatoloni, questi dieci pacchi giganti, dieci persone che secondo me durante la settimana ci hanno fregati. Vedremo via via nel corso della puntata chi sono secondo me i dieci che si meritano di essere messi alla gogna perché ci hanno tirato un pacco. E allora, adesso tocca a voi però, a quel numero di telefono, tocca a voi dirmi, secondo voi, chi è che va fregati in questa anteprima della trasmissione 023-860-2359. Vi avverto subito che questa sera, mentre continua la regia ad inquadrare il numero, vi avverto subito che questa sera parleremo di politica, di antipolitica, lavorano, se la spassano, i nostri politici, immigrazione, pensioni e prostituzione. Sulla prostituzione vi mostreremo dei filmati sconvolgenti che abbiamo girato all'interno dei centri massaggi cinesi a Milano, dove succede veramente di tutto e di più, per cui dopo sarete costretti a mandare i bambini a letto. Volevo salutare un ospite che arriverà dopo, però è già arrivato e siccome è arrivato, gli abbiamo detto, per essere sicuri che arrivasse per tempo, gli abbiamo detto di arrivare qualche minuto prima e lui è arrivato bello, puntuale, fresco come una rosa. Saluto da Roma il senatore Antonio Razzi. Buonasera Antonio, come va? Buonasera Roberto, buonasera a tutti i telespettatori. Senti una roba, poi... Tutto bene, tu lo sai che io avendo... Vendi? Che vendi? No, avendo vissuto in Svizzera tanti anni e sono sempre puntuale, questa è l'educazione che bisogna dare anche ai politici, ma non solo ai politici, a tutti, perché l'orario che uno... Quando fa un appuntamento deve essere preciso. Bravo Antonio, ascoltami, io come vedi sono qua, noi ci diamo del tu perché ci conosciamo dal 2006, quando sei stato eletto, eletto con i voti degli italiani all'estero e non buttato lì nei listini bloccati, ma eletto con i voti che ti sei cercato, trovato, che ti hanno dato gli italiani all'estero, per cui uno dei pochi casi... E' un piacere che ti ricordi Roberto. E mi ricordo sì, senti una roba, che ci faccio secondo te qua con un pennello in mano? Stai... che stai, mica sporcando le macchine a quelle che parcheggiano male? No Antonio, inquadratelo mentre mi... cosa ci faccio col pennello in mano Antonio? Io purtroppo non vedo niente, non vedo che cosa... Metto la faccia di uno, neanch'io vedo te perché la regia non mi fa vedere le tue espressioni che mi mettono una serenità, ecco no? Perché è bella la vita. Eh, volevo dire, io adesso sai cosa faccio? Incollo su questi scatoloni la faccia, per fare un esempio e ne prendo una a caso, questa che è Renzi, la faccia di uno che ci può... Pennello con la colla e... Eh? Pennello con la colla? Incolli qualche viso di qualcuno. Incollo il viso di Renzi perché è secondo me uno di quelli che ci ha tirato il pacco stasettimana, no? Eh? Perché? Che cosa può aver fatto Renzi stasettimana per tirarci il pacco Antonio? Vai scatenati, di tutto quello che vuoi, su quest'uomo che ne ha tirati di pacchi agli italiani, no? No, beh, fa parte del mondo politico, sai che le bugie corrono a velocità supersonic, io invece, tu mi conosci che io sono uno pane pane vino al vino, io dico la verità, perché ai cittadini bisogna dire la verità, non gli si può dire bugie. Le bugie hanno le gambe corte, oggi siamo a un'era moderna, c'è la rete, ci sono tanti strumenti dove la gente e per fortuna tutti i cittadini sono informati, perciò non bisogna dire le cavolate. Ecco, secondo te, quale cavolata ha fatto Renzi stasettimana? Perché tu stai ancora all'opposizione? Sì, 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 tu lo sai che io sono con Silvio Berlusconi e non mi sposta nemmeno le cannonate. E quale cavolata ha combinato Renzi, secondo te, questa settimana? Delle tante che gli avete ricordato? Beh, tra questi ne dice tanti che molte volte mi sfugge, mi sfugge le... Beh, sai, quelle degli 80 Euro che dà a tutti, ormai sai, quelle ci si fa a tutte le campagne elettorali, no? Promette 80 Euro anche ai pensionati, a loro dice tutte bombe, bombe, tutto il bombero, come lo chiamano in spagnolo, è il bombero, capito? Ah, è perché in Spagna ne parlano, eh? Eh, beh, sì, si parlano pure lì, dice, questo è un bombero di primera classe, eh, dico... Meno male, ecco, adesso ti vedo bene Roberto, ti vedo che hai una bella genta in mano. Sì, è la scaletta, ti rimostro il pennello. Ma sei sempre... Ti rimostro il pennello. Ma sei sempre giovane, io pensavo che passano gli anni ma tu rimani sempre giovane. Eh, ho imparato da te, dopo mi devi dire dove ti vai a far cotonare così bene, perché ti cotonano proprio bene, eh, Antonio. Ascolta un attimo. Ho visto, adesso vedo il pennello. Eh, hai visto il pennello, sì, il pennello, hai visto cosa ho fatto, no? Io metto qua, in questo muro della vergogna, le facce di quelli che secondo me, insomma, hanno combinato delle bravate questa settimana e saranno una bella decina, no? Senti Antonio, parlo anche di prostituzione stasera, un tuo vecchio cavallo di battaglia. Allora, intanto vi faccio vedere delle immagini dei centri massaggi cinesi dall'esterno. Antonio, cosa vedi dall'esterno di un centro massaggio cinese? Cosa vedi da fuori? Descrivimi queste immagini, visto che le vedi. Ma, eh, ci sono delle immagini che loro sono massaggiatrici speciali. E come fai a capire che sono massaggiatrici speciali? Beh, almeno si vede, si scrivono nelle porte e loro sono, i grandi massaggiatrici cinesi, fanno i massaggi cinesi, saltano, beh, non lo so come faranno. Io non ci sono mai stato, non lo so. Non ti è mai capitato di andare con una di queste? No, purtroppo non mi è mai capitato, ma nemmeno io lo cerco. Senti, invece noi, ascoltami, eh, Antonio, cosa fai? Cosa vedi? Ah, vedi piccolo. Invece noi le abbiamo cercate. No, è sparito l'immagine. L'ho fatta togliere io, l'ho fatta togliere io, perché adesso ti devo mostrare cosa avviene all'interno. È un'anteprima casta, perché più tardi, quando tu ci lascerai e saremo in fascia protetta, faremo vedere più dettagli. Ma questa è un'anteprima casta, perché noi se la siamo andata a cercare, abbiamo visto che dentro avviene prostituzione a tutte le ore del giorno e della notte. E tu ci spiegherai, Antonio, poi la tua ricetta per combattere il fenomeno, se lo vuoi combattere. Ma vediamo l'anteprima del servizio di Pierluigi Clerici. È bezzola, talenta, 1 ora e 50. 20 minuti? 20 minuti, 21. Massaggio? Solo massaggio no. Bello, provale. Ok. Tu vuoi fare cosa? Solo mano. This n'a church, non siamo un demone. Solo ma sarebbe che. theory waren 60 minuti. mi Ngurui ra con laaltra. Mi aware lah. 20 minuti, 30 minuti, 20 minuti, 20 minuti. E il mio keepio è rompere. Bello, benissimo. No, t'ai confeso mi parecc Alto' Grazie a tutti dole. Ore forestieri. Fa' grecciso tuvi. E laws, ore kun. E poi continua, continua in un modo molto piccante. Allora io mi chiedo, questi bordelli diffusi in tutta la città, ci sono più bordelli cinesi che panetterie? Che senso hanno senza controlli sanitari, senza nessun accenno neanche all'igiene, senza niente? Insomma, Antonio, qual è la tua ricetta per combattere questo fenomeno? La mia ricetta è quello che ho depositato già da molto tempo, la proposta di legge delle riaperture delle case chiuse. Perché non bisogna nascondersi, tanto loro lo fanno ugualmente o di nascosto, come infatti questi massaggi cinesi, come ho visto, che fanno tutto e di tutto quando entrano dentro. Ma scusate, ma perché non si registra, non si fa delle cose serie in modo che tutti possono andarci chi vuole? Pagano e pagano pure le tasse e inoltre vengono controllati dai dottori, non arrivano delle malattie, non portano, perché tanto ci vanno anche gli uomini sposati, poi ritornano a casa e portano le malattie alle loro moglie. Insomma, ragazzi, siamo nel terzo millennio, ma ci vogliamo modernizzare un po', anche questo, in tutto il mondo c'è, non è che in Europa, ma perché noi non possiamo? Tutti, se vai in Svizzera, nella nostra piccola Svizzera vicino, ma dove vai vai, in Spagna o in Germania o in Olanda, in Austria, ci sono. Allora perché non regolarizziamo anche noi questo? C'è calcoli all'incirca che possono entrare circa 4 miliardi di euro e con questi 4 miliardi veramente si può abolire l'Imu alla prima casa a tutti? E io penso che i cittadini rimarranno contenti e poi c'è poca esportazione di valuta, perché tanto vanno all'estero e vanno a fare all'estero. L'hanno già abolita l'Imu sulla prima casa? Sì, ma ci si può fare altre cose, ci si può fare altre cose a favore. No, io lo so che l'aveva già abolito Berlusconi, poi è arrivato il PD, l'ha rimesso, adesso è ritornato Renzi e lo sta rilevando, noi facciamo il gioco delle tre carte. Senti, ma... Lo so che Renzi adesso l'ha levato, però con quei 4 miliardi si può fare altre cose a favore delle famiglie povere, aiutare delle famiglie povere, famiglie disagiate. Quando vai in giro tutti si fanno le foto con te, ormai sei diventato una star internazionale, ogni tanto ne spari qualcuna, però la gente sorride, te la perdona, ma non c'è nessuno che ti ha mai mandato a quel paese? Ma devo dire, grazie, grazie, come si dice, grazie a Dio no, si vede che la gente vuole chi dice la verità e io gli dico la verità perché non mi devo vergognare il giorno dopo, in modo che posso andare a testa alta perché non devo e gli posso guardare gli occhi, perché a me mi piace guardare a gente gli occhi, perché chi abbassa gli occhi vuol dire che c'è qualcosa da nascondere. Io non ho niente da nascondere, amico caro, amico Roberto. Va bene Antonio, io butto giù qui il nostro muro perché deve iniziare la trasmissione e inizierà subito dopo la sigla, tra poco con Antonio Razzi e molti altri. Restate qui. Grazie.